Ciao, migliaia. Siamo andati a letto presto, ci siamo riposati per bene, per affrontare questa giornata pesante. Faranno adesso l'appello alle 9 e poi ci sarà una discussione più o meno di 20 minuti per ogni candidato. I risultati si sapranno tra un mese e due, non si sa, dipende. Buongiorno! Ciao! Non mi chiedi niente? Buongiorno! Un po' quella discussione di quello che ho fatto, della mia storia scientifica, diciamo così. Sei soddisfatta? Sì. Tanto sono persone che già tipo, me lo sconovono molto. Gli altri due venivano da fuori, non fanno domande, non chiedono niente, quindi... Quindi di che parlate per mezz'ora? Parlo di me, dei miei interessi scientifici, però potrebbe anche essere, guarda... Cosa mi piacerebbe fare nella vita? Parlami del tuo ultimo film che hai visto. Poi sono curioso di come hanno valutato il mio curriculum, valuteranno il mio curriculum scientifico. Quante altre persone c'erano? C'erano sette e poi ce ne saranno altre tante oggi pomeriggio, quindi ho fatto due sessioni. Per mezzogiorno vorrei partire, perché se no poi devo fare un corso. Uè, la foto del giorno! Lì, eh? Tutto lì. Mi ricordo la ribalta. Secondo te questo fa curriculum? Assolutamente, assolutamente. Comparsa pagina... Ritaglia! Vediamo. Ciao! 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 Ciao!